Alfonso Dolce fu nominato commissario prefettizio del comune di Cropani dall'amministrazione militare alleata dei territori occupati, con decreto 25 ottobre 1943, vistato dal colonnello Armstrong. Il primo febbraio 1945, con decreto numero 55 del prefetto di Catanzaro, Alfonso Dolce viene nominato sindaco di Cropani. Alfonso Dolce viene eletto sindaco di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 13 aprile del 1946 e resterà in carica fino al giugno del 1952. Domenico Basile viene eletto sindaco di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 10 giugno 1952 e resta in carica fino al giugno del 1956. Antonio Propo viene eletto sindaco di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 15 giugno del 1956 e resta in carica fino al novembre del 1960. Antonio Lombardo è stato eletto sindaco del Comune di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 25 novembre 1960 e resta in carica fino al dicembre del 1964. Francesco Chiaravalloti viene eletto sindaco del Comune di Cropani nella seduta consigliare del 12 gennaio 1965. Viene confermato in seguito alle elezioni comunali del 7 e l'8 giugno del 1970 e mantiene la carica fino al giugno-luglio 1975. PS, dal marzo 1973 all'ottobre dello stesso anno, Chiaravalloti viene sospeso dalla carica di sindaco. Sindaco facente funzione, viene nominato Antonio Colosimo. Francesco Curucci viene eletto sindaco di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale tra giugno e luglio del 1975. Viene confermato in seguito alle elezioni comunali dell'8 e 9 di giugno 1980 e rimane in carica fino al 18 luglio 1983. Mario Zaccanelli viene eletto sindaco del Comune di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 18 luglio 1983. Rimane in carica fino al 18 giugno 1985. Domenico Macri viene eletto sindaco di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 18 giugno 1985 e resta in carica fino al 7 marzo 1988. Pasquale Capellupo viene eletto sindaco del Comune di Cropani nella seduta del Consiglio Comunale del 7 marzo 1988. Viene confermato in seguito alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio del 1990. Viene riconfermato in seguito alle elezioni comunali del 23 aprile 1995 e rimane in carica fino al giugno del 1999. Antonello Grano viene eletto sindaco del Comune di Cropani nella tornata elettorale del 13 giugno 1999. Viene confermato nelle elezioni comunali del 12 giugno del 2004 e resta in carica fino al giugno 2009. Bruno Colosimo viene eletto sindaco nella tornata elettorale del 7 giugno 2009. Viene rieletto nella tornata elettorale del 25 maggio 2014 e rimane in carica fino al giugno 2017. Grazie a tutti!